Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi martedì 18 aprile. Vi ricordo che oggi martedì 18 aprile siamo in onda con Matrix e vi ricordo tutti quanti piccole comunicazioni di servizio all'intenzione di questa zuppa di porro che potete seguire le novità, gli articoli anche in esclusiva di quello che scrive e di quello che succederà anche questa sera sul sito che ho appena fatto che si chiama www.nicolaporro.it abbiamo finito con la pubblicità e andiamo sulle cose serie o per la verità non così serie, cioè quelle che scrivono oggi i giornali la cosa fondamentale è che tutti quanti i giornali oggi parlano di Erdogan e la vittoria sul referendum di misura del 51% l'intervista del Corriere della Sera sugli osservatori Oxe che avrebbero contestato e che contestano le elezioni di Erdogan sono fatte da una vecchia conoscenza del Parlamento italiano, Tana De Zuleta ex corrispondente dell'Economist, una vita contro Silvio Berlusconi, una parentesi contro Erdogan vi leggete l'intervista sul Corriere della Sera e capite che i brogli probabilmente ci sono stati forse sono stati significativi, non lo so, ricordiamo che anche la nostra Repubblica è nata sui brogli lì è nata forse una dittatura, dicono gli osservatori più attenti, ma l'intervista di Tana De Zuleta tutto fa come rappresentante dell'Ocse tranne rassicurarci sulla serietà non solo di Erdogan ma anche dell'Ocse ma questo è un discorso a parte. La domanda che io mi faccio e che rivolgo a tutti quanti voi è quali sono questi poteri che Erdogan avrebbe acquistato dopo il referendum? Porca miseria! A, B, C, secondo me, del giornalismo. Ma siete tutti quanti voi che comprate i giornali pochi per la verità, dei fenomeni, degli esperti di geopolitica e volete tutti vendere i commenti leggervi Ferrari, leggervi Sergio Romano, leggervi, non so, Montale, leggervi Kissinger, leggervi Dante Alighieri o qualcuno di voi alza il dito? Scusate, ma quali sono i poteri che Erdogan prende con questo referendum? Non c'è un porca miseria di giornale che oggi, il giorno in cui passa il referendum, ci scrive con semplicità quali sono questi poteri dittatoriali che ha preso Erdogan. Ne avrà presi sicuramente, non lo metto in dubbio ma me lo scrivete. Io che sono banalmente uno che vuole leggere i giornali, oggi avrei voluto vedere sui giornali che cosa succedeva nella Turchia da domani. Mentre non riesco a capirci nulla, leggo un'intervista al Presidente del Parlamento Europeo e non solo lui, Tajani, che dice forse farà un referendum per chiedere la pena di morte. Quindi in futuro farà un referendum a cui dovranno giudicare i turchi sulla pena di morte e se dovesse fare e accettare vincere quel referendum non potrebbe più partecipare neanche alle discussioni sull'Europa. Ma oggi con questo referendum che poteri ha avuto Erdogan? Un solo dettaglio, lo leggo. Grazie Ale, il messaggero ha scritto in uno schemino i nuovi poteri. Allora mi è sfuggito, perdono, per fortuna che ci siete voi che leggete meglio di me i giornali, io ne leggo veramente tanti, anche la nuova Ferrara oggi. Il messaggero ha fatto uno schemino, punto di merito per il messaggero. Quello che ho letto io invece è che in una parentesi di un pezzo del Corriere della Sera c'è scritto che, ve lo leggo bene, che potrà, nel pezzo che discute Erdogan, potrà da Presidente della Repubblica Turca, potrà anche tornare a diventare segretario dell'AKP, che è il partito confessionale che lo ha visto leader. Quindi una delle grandi, una delle riforme, una delle poche che mi cita il Corriere della Sera è che lui potrà fare Presidente della Repubblica e segretario del partito. Mi chiedo, ma questa cosa qua in Italia, per esempio, che non è una dittatura, vi suona familiare? I Presidenti del Consiglio che sono anche segretari del partito, non l'avete mai sentita? No, lo chiedo, perché se questa è la riforma che rende dittatura la Turchia, anche noi siamo una dittatura. No, non è nella comunità europea la Turchia, per chi me lo chiede, ha fatto alcuni passi per avvicinarci. Andiamo avanti, altro tema della giornata. Di Maio contro le liberalizzazioni che sono sfascia famiglie. La questione del flop, del sciopero, degli outlet di Serravalle. Se vi appassionate, vi appassiona, leggete libero. Il titolo ha la mano di Vittorio Feltri, io lo conosco Vittorio, perché l'occhiello del titolo è Interviene Di Maio su un argomento che gli è estraneo, perché non ha mai lavorato in vita sua. Questo è il tipico, un argomento che gli è strano, è proprio un modo di dire di Vittorio Feltri, che io conosco, molto divertente. E comunque il segnale è che Di Maio oggi, insieme ai Vescovi, è alla vecchia battaglia della Lega Nord e contro l'apertura la domenica, perché sfascerebbe la famiglia. Allora, il grande movimento, diciamo, di Rousseau e della rete, oggi non ha capito una cosa banale, purtroppo, è che i negozi, gli outlet, sono purtroppo, come noi giornalisti, in un declino micidiale. Il problema non è, come diceva la Lega 15 anni fa, seguire i supermercati e le loro aperture e le catene di distribuzione, che anche quella era una minchiata, perché era fuori dal tempo. Il problema è che adesso voi cliccate su questo computer e attraverso Amazon vi arrivano le lamette da barba, quella che non ho fatto io questa mattina, a casa di domenica, di martedì, e addirittura vi chiedono, sabato, vi dispiace se arrivano a casa, avete dei problemi nella consegna del sabato? Insomma, a parte le consegne la domenica, arrivano sempre in un'ora, quindi il tema non è l'apertura la domenica o degli outlet, il tema è che ormai il piccolo commercio, quello di prossimità, la rete vitale di questo paese, sta morendo perché oggi esistono solo grandi magazzini, inteso come magazzini, non come supermercati, magazzini dove ci sono merci che vengono distribuite da Amazon, se questa è la preoccupazione del futuro di Di Maio andiamo bene, su Facebook c'è un dibattito incredibile perché ieri ha pubblicato per tre ore la foto, il video di uno, come sto facendo ora io, video live, che ammazza senza senso una persona per strada, si tratta di immagini belle? No, orrende, si tratta di uno scandalo? No, non è uno scandalo, perché purtroppo, purtroppo, il problema è in questa regione Zuckerberg, io non lo amo, lo critico spessissimo, ragazzi c'ha 1,8 miliardi di persone che possono in ogni istante postare, mandare immagini, foto, per tre ore, quelle immagini sono state, il problema è il mezzo o chi ha sparato? Ma da che cosa stiamo parlando? E poi nello stesso giorno in cui si critica Facebook per questa operazione, leggo sui giornali e vedo le foto sui giornali di quel tifoso dell'Argentina chiamato Balbo, che cade da una ringhiera perché è buttato dai tifosi e muore, ma vedo tutte le foto, tutta la sequenza fotografica, e vedo le foto dei bambini uccisi, e i giornali scrivono e fanno vedere di tutto, e il problema è live di Facebook e quindi bisogna controllare Facebook, questo è il punto vero, e su questo che cosa troviamo? Due grandi banalità, quella di Severnini, che peraltro, come sempre, ormai fa pezzi in collaborazione con qualcuno, ci saranno delle persone che gli ritrovano le date, perché cita le date degli interventi di Zuckerberg sul fatto che il fondatore di Facebook debba o non debba controllare la rete, e l'altra grande banalità, ma quella forse, no, non te l'aspettavi quanto Severnini, che è la banalità a farsi in persona, mi sono divertito a leggere Mara Carfagna, ex ministro della Repubblica, sul tempo fogliettone che mette insieme tutto, cyberbullismo, cioè prende tutto lo schifo che c'è sulla rete e fa un discorso che è incomprensibile, se non quello di dire che un paese non è libero, non per la dimensione della libertà che si ha sulla rete, ma sul rispetto che si ha della libertà degli altri. Le banalità e i pensierini di Carfagna e Severnini su Facebook sono straordinari, una cosa è certa, il tema che la politica e i giornalisti tradizionali vogliono controllare in qualche maniera, con un loro pensiero, la rete e la libertà della rete, perché c'è uno che ha postato una cosa tremenda, è una cosa che è l'inizio della fine della nostra libertà, perché non si può pensare che la rete, non doveva andare in onda, sia chiaro, io sono convinto che abbia fatto bene Facebook a cancellarlo, ma quanto deve essere stringente questa rete dei controllori di Facebook? Il meno possibile. Dopo tre ore viene cancellato, quello passerà la vita in galera dopo aver fatto questa cosa, stiamo parlando di una patologia del sistema, di un pazzo, il pazzo non è controllabile, non è Facebook che lo può controllare, dopo tre ore l'ha tolto, qual è il problema? Stiamo a fare le pippe sul futuro, mi sembrano ben altri problemi. Il sindaco di Amatrice ha detto non fatemi selfie sulle nostre rovine, quello qual è il problema? Il problema è che c'è ragione il sindaco di Amatrice, il problema è di Facebook o di Instagram che pubblicano quelle foto o dei cretini che vanno da Patrice e si fanno i selfie? Di che stiamo parlando? Che facciamo? Vogliamo un controllore, Carfagna e Severghini, che decidano per esempio che è poco politicamente giusto fare i selfie sulle rovine di Amatrice? Beh, io penso che il sindaco abbia fatto bene a dirlo, ma penso pure che Facebook e Instagram possano ancora pubblicare quelle foto da parte di quei cretini, cretini, ma che lo facciano! Vabbè, sulla rete straordinaria, a proposito di minchiate, quella di Dasha Maraini, che dice le tv trasformano Igor, di cui oggi si occupa la nuova Ferrara perché vanno a cercare anche le donne di Igor, Igor non se ne occupano più molto, ma è da nove giorni fa ucciso una persona, vive nel Polesine, è braccato, eccetera, la televisione trasformano Igor in un eroe, il fuggiasco che non viene preso dalle 800 forze dell'ordine, cioè colpa nostra, cioè Igor diventa un eroe per colpa nostra, Facebook fa schifo perché solo dopo tre ore toglie quella cosa, e Igor invece non fa schifo, ma siamo noi che facciamo schifo perché parliamo di Igor in televisione, io dico, beh, insomma, fantastico. muoiono due personaggi molto importanti per la nostra storia, che sono Piero Ottone, ex direttore del Corriere della Sera, e Gianni Boncompagni, l'uomo di Non è la Rai, beh, e su Piero Ottone fatemi soltanto dire una cosa, c'è Eugenio Scalfari che si prende qualche rivincitina sua, a modo suo, sul fatto che alla fine Repubblica, fondata da Scalfari, doveva essere destinata, secondo Ottone, a fare 70.000 copie, che aveva consigliato di chiuderla, e poi dopo supera il Corriere, e vari articoli commemorativi ovviamente su Corriere della Sera, ci sta, era un grande giornalista, nessuno glielo toglie, aveva uno stile particolare inglese, come oggi fa di moda dire, schiena dritta, e tutto quanto, c'è una sola cosa che non ci sta, e lo dico con affetto anche agli eredi e agli amici che conosco, e che fanno parte delle cerchie più strette degli amici, e anche i miei, che mi dicono non essere troppo duro con Ottone, però abbiate pazienza, una cosa si può dire, e la dice Daniele Abbiati con eleganza oggi sul giornale, il giornale nasce grazie a quella follia di Ottone e della Crespi, che con la faccia come il culo, la Crespi fa un'intervista al Corriere della Sera, imbarazzante, quelle donne che forse dovrebbero smettere di parlare, ma comunque smette di parlare perché non hanno più nulla da dire, se non le minchiate, poi libera di farlo su Facebook, in ogni posto in cui, il suo Corriere della Sera, ma le minchiate che dice sono pazzesche, riguardo a Montarelli, la minchiata più grossa la ricorda oggi bene Daniele Abbiati, quando fu gambizzato nel 1977, il titolo del Corriere della Sera, anche i giornalisti vittime dei terroristi, non misero sulla riga importante del titolo, il nome di Montanelli, che poi è diventata la loro icona, l'hanno messa nel loro pantone, eccetera, beh insomma, ci sta, come qualcuno mi ha detto, questo è un titolo all'inglese, perché lui non, ma ci sta anche, che forse se ti feriscono il tuo giornale, i terroristi, forse quel nome in prima pagina, nel titolo l'avresti messo, penso che ci sia un non detto, tra quell'antipatia, tra Ottone e Montanelli, di quell'epoca, che altro che il giornalismo inglese, lì Ottone è scivolato, sul giornalismo latino, avrei modo di dire, la manovra sul Sole 24 Ore, parla dello split payment, un casino pazzesco per noi professionisti, lo vedrete purtroppo tra poco, ritorneremo su questo, Carlo Stagnaro, in conclusione, sul foglio, un pezzo favoloso, sulla politica energetica folle, del Movimento 5 Stelle, in cui dice, si fa una domanda tra le tre che si fa, ma scusate, la domanda di energia, cioè quello che noi vogliamo di energia, come lo affronteranno i grillini, con la loro decrescita felice, l'ho messa un po' complicata, ma la sostanza è, se a luglio volete l'aria condizionata, ve la dico io, come la rendete compatibile questa cosa, col fatto che non volete più, bruciare petrolio, bruciare grassa, avere i gas d'ottima, avere soltanto eolico e rinnovabile, posto che la vostra cacchio di aria condizionata, in macchina, a casa, la volete ad ogni costo, cari amici, questa sera, Matrix, su canale 5, un saluto, e grazie per avermi seguito come sempre, condividete questo video se vi piace, e andate su nicolaporro.it, per avere altre informazioni, su quello che succede nel giorno, un pezzo di video,